Vi è mai capitato di voler buttare un vostro disegno nel cestino, di proprio volerlo stracciare, bruciare, distruggere? Lo scommetto di sì perché penso che sia capitato almeno una volta nella vita a chiunque. Oggi parliamo un po' di questo e vi racconto la storia di un dipinto che stava per finire nel cestino. Ciao, benvenute e benvenuti in un nuovo video. Questo dipinto che mi vedrete fare in realtà lo volevo registrare per un altro motivo, per un video in cui avrei parlato di tutt'altro argomento. Poi però visto che è andato come è andato ho deciso di cogliere quest'occasione per parlare proprio di questo fenomeno che appunto prima o poi capita a tutti, di cosa fare, come comportarsi quando un dipinto ci viene male e lo vogliamo distruggere, non lo vogliamo proprio più vedere. Allora io non vi dirò che non bisogna mai buttare i propri dipinti perché a volte bisogna farlo, a volte può essere catartico, a volte non si può proprio recuperare, quindi non c'è niente di male nel farlo secondo me. Però penso che prima di arrivare a tanto c'è una grandissima occasione che si presenta quando un dipinto viene male e che quindi vale la pena provare. Intanto vediamo che cosa è andato storto perché questo dipinto è venuto male. Sono partita già da qualcosa di problematico, nel senso che il disegno che avevo fatto non era un brutto disegno, anzi era un disegno molto proporzionato, secondo me abbastanza buono, però mi dava leggermente fastidio perché il volto della ragazza che avevo scelto proprio perché aveva qualcosa di particolare non mi è venuto, mi è venuto un po' troppo quasi standardizzato, come se rientrasse troppo in quei canoni che invece non facevano parte di quel tipo di bellezza che io avevo scelto. Invece mi è venuto un po' barbie. Quindi forse il primo errore è stato farmi andare bene il disegno anche se intuitivamente dentro di me sapevo che c'era qualcosa che mi aveva dato fastidio e va bene. Secondo errore, molto grave, più grave del primo, è stato non provare abbastanza la palette di colori, quindi c'era qualcosa che avevo già provato di queste accoppiate varie, ho scelto quattro colori mi sembra ed essendo dei colori che avevo già usato molte volte in precedenza ho dato per scontato che potessero funzionare bene, però non ho deciso quale fosse il colore dominante, insomma non ho studiato abbastanza bene la palette e avevo degli obiettivi che erano realizzare un'atmosfera più immersiva, quindi non lasciare il fondo bianco e utilizzare dei colori trasparenti per giocare molto sui contrasti luce e ombre diciamo. Ecco già qui che metto questo colore che è credo il viola perilene mischiato con il terra d'ombra e il blu manganese e già questi tre colori insieme non mi piacciono. Poi il foglio si sta leggermente asciugando, non sta utilizzando il colore in maniera abbastanza densa, insomma ci sono, adesso lo vedo ancora di più vedendo il video, degli errori che si sono accumulati e che ho fatto perché non ero proprio nello stato d'animo di dipingere. Questo può succedere e non penso che sia stato un errore perché a volte non sono nello stato d'animo di dipingere, lo faccio lo stesso e poi mi si accende l'ispirazione e in realtà va bene, cioè mi metto in moto in maniera leggermente forzata e poi funziona. Però può anche succedere che quando proprio sentiamo che non siamo nell'umore effettivamente poi non riusciamo ad entrare nel flusso creativo e quindi quello che facciamo è molto più impacciato del solito. Cerco quindi di dare un senso a quello che sto facendo andando sugli elementi un po' più di dettaglio e utilizzando lo scuro così da darmi qualche punto fermo, quindi mi dedico un po' agli occhi. E questa cosa mi fa sorridere perché mi sembra che poi il ritratto assuma lo stato d'animo che io ho mentre dipingo, quindi vedo questi occhi afflitti come già è successo in altri dipinti e mi viene da ridere. Comunque creare questi punti più scuri e di dettaglio sicuramente aiuta, però mi stavo allontanando proprio da tutti gli obiettivi che mi ero data all'inizio, dal tipo di dipinto a cui mi ero ispirata, che era un dipinto che avevo fatto io stessa, cioè volevo cercare di in qualche modo riprendere il filo che avevo cominciato in quel dipinto, ma mi stava venendo fuori qualcosa di totalmente diverso. Allora, quando c'è questo scollamento tra l'idea che ci siamo fatti di come dovrà avvenire il dipinto e quello che invece è l'effettivo processo creativo, la frustrazione sale. A questo punto cerco di dare una mano di colore al volto, un colore più caldo, perché fino adesso era proprio quell'azzurrino che serve per l'ombra e sto proprio odiando il rosso che ho scelto, che è un rosso che invece di solito funziona, è il rosso che mi piace, ma in questo accordo cromatico, non lo so, mi stava facendo proprio schifo, se posso dirlo, ma del mio dipinto posso dirlo, dai. Vedete che comunque provo ad insistere, ci sto provando fino alla fine e sto aggiungendo gli scuri, sto cercando di ridare la forma al volto, insomma sto cercando di salvare il salvabile, però a un certo punto proprio decido che non ha più senso continuare e questo soprattutto perché sento come sto dipingendo, sto dipingendo ormai in maniera frustrata, scocciata, facendo cose a caso, non sto per niente seguendo quella magica ispirazione, quella bussola che sento, quando invece sono ispirata e sono nel flusso. Cosa fare quindi a questo punto? Allora, ho lasciato il dipinto da una parte, poi appena si è asciugato l'ho girato faccia muro così non dovevo vederlo e l'ho messo in stand by, quindi ero quasi sicura che l'avrei buttato, che avrei usato il retro per fare degli studi e per fare altro, però cosa è successo? che un altro giorno, quindi sono passati alcuni giorni, ho dipinto un'altra cosa ed ero molto ispirata, allora ho pensato posso cercare di usare questa ispirazione, questo stato d'animo positivo per tentare di riprendere quel dipinto, non tanto perché l'obiettivo deve essere salvarlo per forza, cioè i fallimenti in pittura vanno bene, ci sono, fanno parte del gioco, però quello che vale la pena, secondo me, è prendere il dipinto brutto come un'occasione per essere molto più liberi nel dipingere, questo perché non abbiamo più paura di rovinarlo, ormai è rovinato, quindi questo ci permetterà di avere un approccio più sperimentale, un approccio più coraggioso del solito e questa è una grandissima grandissima occasione secondo me, quindi il mio approccio era provo a dipingerci sopra e vediamo che succede, se viene uno schifo non importa, voglio provare qualcosa che non ho il coraggio di provare normalmente, dopodiché ho pensato razionalmente che cosa può aiutarmi a recuperare il dipinto, che cosa è che proprio mi fa schifo di questo dipinto e l'elemento più grave secondo me era proprio la cozzaia di colori, quindi ho detto provo a portarlo sul monocromo, cerco di utilizzare solo un colore, un colore abbastanza scuro, quindi so che avrei scurito il tutto, perciò abbandonavo l'idea di creare un gioco di trasparenze come era all'inizio, quindi lascio andare l'idea di partenza e cerco di farne invece qualcos'altro, perciò vedete che do una mano anche per uniformare tutte quelle rigidità, cercando comunque di mantenere abbastanza chiare le aree di luce, quello che faccio da qui in poi è creare tanti strati uno sull'altro con il colore mediamente diluito o abbastanza diluito per cercare di recuperare in qualche modo l'anatomia ma anche proprio lo sguardo, di creare un movimento sul foglio che sia interessante, avere un gesto un po' più libero perché a questo punto non ho più paura di rovinarlo, scurendo lo sfondo ho avuto la possibilità anche di aggiustare un po' meglio la forma della testa, la forma dei capelli, ho favorito la creazione di fioriture, secondo me potevano essere un elemento utile perché mi dava molto fastidio la staticità e la rigidità di quel lavoro soprattutto e poi usare un colore scuro mi dà la possibilità anche di reagire sull'anatomia e provare ad aggiustare la forma del volto che era quella che non avevo colto bene dalla modella e che quindi era solo la possibilità di aggiustare ora che sono rientrata un po' nel flusso che mi stavo comunque divertendo di nuovo posso accogliere nuove idee che mi vengono quindi anche se inizialmente avevo pensato di portarlo sul monocromo a un certo punto mi viene voglia, sento che è giusto, inserire un elemento più saturo, inserire un altro colore e quindi lo faccio. Non so se capita così anche a voi magari qualcuno sì qualcuno no però sentite proprio una differenza tra le idee che vi vengono dal profondo in un certo senso dall'intuizione e le idee che sono invece solo razionali o che sono ciò che pensate sia giusto fare insomma sono due livelli molto diversi io noto sempre che le idee razionali possono essere utili inizialmente ma poi dobbiamo essere in grado di cogliere le idee intuitive e questo succede quando entriamo in sintonia col dipinto se non si crea questa sintonia il dipinto comincia a subire le nostre ire vorremmo distruggerlo ma io vi consiglio di metterlo da parte e lasciarlo per un momento in cui vi sentite meglio vi sentite più ispirati e provare potete provare anche tecniche nuove diverse diventa a quel punto il vostro campo di battaglia eccola qui no l'occasione enorme avete la possibilità di utilizzare un altro tipo di intenzione la mano può andare più libera c'è meno paura perché ormai dipinto è rovinato è ovvio che c'è una parte di noi come c'era una parte di me che sperava che comunque il dipinto poi venisse recuperato e diventasse qualcosa di bello ma non era più l'obiettivo principale questa è un po' la differenza adesso che il dipinto sta giungendo verso la fine si può vedere quanto sia diventato diverso rispetto all'inizio e anche quanto diciamo non abbia rispettato l'idea di partenza in realtà una delle due sì perché un'idea di partenza era che fosse immersivo e questa atmosfera scura aiuta a immergersi nel dipinto ma non ci sono quei giochi di trasparenze il dipinto è molto scuro in certi punti è molto opaco e io preferisco i dipinti che giocano di più sulle trasparenze però c'è comunque qualcosa di interessante e soprattutto c'è qualcosa che io ho imparato dipingendo sopra il lavoro ho capito una cosa delle macchie ho capito che se sono più rilassata e se sono meno attenta a seguire ogni singola ombra posso creare delle macchie migliori più espressive più interessanti e questo cercherò di farne tesoro e non l'avrei capito almeno non così e non adesso se non avessi avuto il coraggio di riprovare a mettere le mani su questo dipinto e però ripeto che non è assolutamente una regola da seguire tutte le volte alcuni dipinti fanno schifo e basta alcuni dipinti non li vogliamo proprio più vedere ma io spero che almeno una volta quando vi verrà male un dipinto proverete a insistere proverete a prenderla così come un gioco a quel punto in cui non avete assolutamente niente da perdere che ne pensate di tutto ciò fatemi sapere anche secondo le vostre esperienze questo è il dipinto finale e trovate tutto il processo come al solito su patreon vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine e noi ci vediamo presto nel prossimo video